Grazie a tutti. Ero un bambino e davo calce ad un pallone, gente comune nel quartiere di sudore, cosa vuol dire camminare per il pane, marcato a uomo mi volevo liberare, dal mio destino di ogni giorno dottore, dal fiato sul mio collo da una condizione, un catenaccio a denti stretti e un contrattacco, su quella fascia la bellezza di un riscatto. Perché ho sempre immaginato di smarcarmi, di volarmi e inzaccare in un rettangolo di gioia, e così che come allora sono in crime a liberarmi e il mio piede è più sensibile a sinistra. Perché là fuori c'è chi gioca una partita, che c'è svantaggio prende il calci dalla dita, passo la palla a tutti gli altri per vedere, una giocata più corale realizzare. Perché so che per segnare c'è uno schema solidale, mescolando i tentativi alla pazienza, e così anche se attaccati stretti con i miei compagni, trasformiamo la difesa in resistenza. Alla sinistra Sola sulla fascia Tutti al centro io rimango alla finistra Le calci da guardare, giornalisti da ascoltare, e discutere per ore, se è rigore, per portarci ad assopire, e non farci più pensare, rompere le antenne e farci addormentare. Chiuso nella metà campo, da quel diavolo assalito, un contrasto vinto e sono ripartito, e spostandomi a sinistra, ho calciato all'improvviso, palla e rene, e si è spento quel sorriso. Cristian Lucarelli 1-1 Perché so che per segnare c'è uno schema solidale, mescolando i tentativi alla pazienza, e così anche se attaccati stretti con i miei compagni, trasformiamo la difesa in resistenza. Alla sinistra Sola sulla fascia Tutti al centro io rimango alla finistra Alla sinistra Sola sulla fascia Tutti al centro io rimango alla finistra Alla sinistra Sola sulla fascia Tutti al centro io rimango alla finistra Alla sinistra Alla sinistra Sola sulla fascia Sola sulla fascia Tutti al centro io rimango alla finistra Alla sinistra Alla sinistra Alla sinistra Pistare Alla sinistra